Spiro rettangolare Ovviamente voglio discutere quando questo spiro rettangolare è inclinato e abbiamo forse capito che c'è un'orientazione speciale, in realtà ce ne sono due ma una è più speciale dell'altra, potete capire che è speciale perché basta che sia inclinato in questo senso che vedete che la forza su questo estremo qui, quindi forse il caso disegniamo Questo è il lato A e voi state guardando così e questo se volete è una vista, facciamo la vista questa, vabbè, stavo per dire dall'alto nel senso che potete immaginare di avere l'occhio quassù e di guardare in giù come l'occhio di Sauro che guarda, però qua dovrei mettere delle X che rappresentano il campo giallo che è il campo magnetico che entra nella della mania ma è quello che contrasta con questo disegno qui, quindi se volete è la vista dal basso state guardando così, va bene? Quindi questa vista qua, questa vista qua è la vista dal basso, in questo disegno è come se voi avete l'occhio qua, va bene? vedete il campo magnetico che vi viene in faccia questo è il campo magnetico, vedete delle frecce che vi stanno vedendo in faccia quindi sono dei punti, ok? Allora il campo magnetico, questo punto è vero in basso, lo è pure qui e che vedete è un campo uniforme, per ipotesi questo esercizio è un campo uniforme, quindi questo esercizio B che a priori dipende dal punto in realtà è un valore costante nella direzione X, ok? X verso il basso, Y verso la vostra destra e Z esce, d'accordo? Va bene, quindi vedete che c'è un momento attorcente che prima non c'era, quando la spira era messa così non c'era un momento attorcente, certo c'era delle forze a voler deformare la spira ma non c'era un momento attorcente, appena io inclino, certo ci sarà una tendenza a deformare la spira ma c'era anche un momento attorcente che gli dice quella orientazione non mi piace e io per tenerla così devo applicare un momento attorcente per compensare, per equilibrare quella che nasce dalla forza di Lorentz e questa nasce dalla forza di Lorentz e questa quindi per equilibrare il momento torcente io devo applicarlo, fare muscoli, acido lattico, appena io tolgo il momento di inerzia che equilibri a quella lì, scusa sono stanco vedete, appena tolgo il momento torcente che equilibri a quella di Lorentz quella spira che per un attimo era ferma quando lascia la presa non sarà più ferma perché essendoci un momento torcente accelererà angolarmente, d'accordo? La legge di Newton è I teta due punti uguale Tau, se Tau diverso da zero teta due punti è diverso da zero quindi qual è la direzione di Tau? Entra nella lavagna, se la spira è così quindi lui accenderà e accelererà in questo verso, guardate se Tau entra con il mio pollice, le mie dita rappresentano la direzione della quale accelererà angolarmente, quando muovo la presa lui ruoterà in senso orario, se la spira fosse stata inclinata così, avrei avuto questo rosso, avrei avuto questa forza così quindi quando è creato in questo modo il momento torcente è uscente, quindi quando muovo la presa l'angolo, l'oggetto accelererà angolarmente in senso anti-orario d'accordo? Quindi vedete che questa spira se il campo magnetico sta andando dal soffitto al pavimento, quando è così c'è una tendenza a espandere, a deformarsi quando lo inclino in questo modo qua, quando muovo la presa lui accelererà in questa direzione, se lo avevo così lo accelera in questa, quindi potete intuire che se muovo la presa lui farà così, perché accelera così ma poi arriva in velocità angolare, ha un momento di inerzia e quindi prosegue il suo moto voltazionale, si trova dall'altra parte e c'è un momento di inerzia che vuole riportarlo, c'è un momento torcente che vuole riportarlo indietro, quindi lui, deve essere chiaro questo, il momento torcente, quando è orientato in questo modo tau entra, come posso scriverlo? Facciamo in bianco la ragione, con questa configurazione qua tau entra, con questa tau esce, dovete notare in qualche modo l'analogia tra, pur tenendo fortemente presente le differenze, ma dovete notare l'analogia, se questo è se le cariche positive sono qua e le cariche negative sono qua, se il dipolo è messo in questo modo, che so, la carica positiva è qua e la carica negativa è per di qua, qual è la direzione di tau? Con la forza, cosa avevo disegnato, con rosso le forze? Qua è la forza, questa è la forza, questo è un tau, vedete, tau entra quindi quando mollo la presa, questo vuoterà in senso orario, quindi questo è un tau entrante, entra, se invece il dipolo era messo così, ok, la forza era così, la forza era così, e qua avete un tau, vedete che il pollice esce, quindi quando mollo la presa l'angolo girerà, il dipolo girerà in senso anti orario, quindi questo è un tau che usce, che esce, ok? Quindi c'è un'analogia da queste due, no? Ah, il dipolo, così, fa trac, 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 notate l'analogia? C'è differenze, ma anche l'analogia, adesso voglio scrivere qual è il momento torcente, ma prima di farlo voglio che evitate su questo, perché questo qua ovviamente è un pezzo di filo, è un pezzo di filo e su quel filo io ho tanti portatori di carica, ogni portatore di carica sente una forza, no? Quindi loro stanno viaggiando in questa direzione e il campo magnetico sta uscendo, aspettate, come ho fatto? Qual era il disegno? Vista dal basso? Vista dal basso, quindi lui sta, la corrente sta così, così, e vabbè l'altra orientazione, l'altra orientazione il messaggio è che ogni portatore di carica sente una forza in un certo filo, immaginate un filo che abbia una sezione A, quindi questo filo ha una sezione A, e ha una certa lunghezza, questo è B, e questa è una sezione lungo A, quindi su questo segmento qui che è lungo B, qual è la forza che sta agendo su tutto quel segmento? Ovviamente è la somma delle forze che agiscono sui singoli portatori di carica, quindi il singolo portatore di carica, magari l'indico con F per distinguere dalla forza complessiva sul filo? Ogni portatore di carica si sta viaggiando verso l'alto in questo disegno e B è verso di voi, la forza è per di qua, ma quante ce ne sono in questo segmento? Quante ce ne sono? Beh, di portatore di carica ce ne sono n per unità di volume, ma qual è il volume del filo? Il volume è l'area della sezione per la lunghezza, quindi questo è il volume complessivo del filo, d'accordo? ognuno di loro sento la forza che è Q, Q, V, B Guardate questa formula, questa è la forza complessiva, i termini sono dimensionali se volete, cioè la forza nasce dalla forza su ognuno, quante ce ne sono per unità di volume per il volume complessivo, l'avete visto? Questa è la forza sul singolo, questo è quante ce ne sono per unità di volume, questo è il volume, quindi questo è quante ce ne sono in quel volume, ognuno sente quello, quindi se vi fermate a pensare, visto che in ultima analisi questo è un prodotto vettore, la forza c'è se V e B sono storti, se V e B non sono storti non c'è alcuna forza, deve essere chiaro che se questa è l'espressione polare e se il filo è così, con la corrente convenzionale quindi la densità di corrente convenzionale è così, questo filo non sente una forza, perché la velocità dei portatori di carica è parallela a B, per sentire una forza il filo deve essere storto, cioè la velocità di deriva del portatore dentro il filo deve essere storto, cioè il filo deve essere storto, quindi vedete questa è la formula che non vi sto dimostrando come farebbe un matematico, ma vi sto dando una spiegazione plausibile, dovete vederla e capire da dove viene la forza totale sul filo di lunghezza L, dipende come è orientato il filo, se il filo non è storto rispetto a B non ci sarà alcuna forza, se il filo è a 90 gradi rispetto al campo magnetico ci sarà una forza massima, se il filo è inclinato ad un angolo intermedio tra l'essere parallelo e l'essere completamente storto, cioè 90 gradi, avete il seno dell'angolo, quindi la lunghezza del filo lo faccio diventare un vettore perché voglio tenere conto dell'orientazione del filo rispetto a B, quindi questo mi da la forza totale sul filo è la corrente per la lunghezza del filo pensata come un vettore che quindi è orientata rispetto a B opportunamente storto oppure no, prodotto vettore, cioè mi pongo il problema se il filo è storto o no rispetto a B e di quanto è storto? D'accordo? Quindi la forza varia con l'angolo O, quindi il modulo di questa forza è I, il modulo della forza è uguale alla corrente, alla lunghezza del filo, al modulo del campo magnetico che in questo esercizio l'ho chiamato di zero per il seno dell'angolo che c'è tra il filo pensato nel senso come un vettore, come è orientato rispetto a B, quindi se l'angolo è zero il seno vale zero e non ho alcuna forza perché? Perché la forza è uguale si funziona così no? Guardate questa forma e applicamolo qui il disegno è compromesso, cancello un po' devo essere chiaro, guardate come fa, la I cos'è? è una densità di corrente, la I è scusatemi è il flusso della densità di corrente quindi è una densità di corrente moltiplicata per un'area, J per A, cos'è la J? è QNV per A, ok? Quindi se voi mettete queste espressioni qui, ottenete questo qua che è quello che ci si aspetta, la forza sul simbolo, moltiplicato per quante ce le sono e quante ce le sono in un dato volume? beh, la densità numerica è di volum quindi com'è, com'è la forza qua? adesso non so quindi la forza qui, che è di là, quindi lo scrivo come modulo mi interessa il modulo, cos'è? di nuovo il disegno, cos'è? questo è il lato B, questo è il lato A io sto parlando di questo che è lungo B cioè la lunghezza di questo segmento è B d'accordo? quindi questa è questa formula qua ho la corrente che sta girando per la lunghezza, quindi per B per il B piccolo, da non confondere con B maiuscolo per cortesia per il seno dell'angolo, quale angolo? l'angolo tra questo segmento qui è il campo magnetico B che è di nuovo in giallo quindi B qui sta facendo così qual'è l'angolo tra il segmento, questo è il segmento B la corrente sta seguendo questo filo bianco questo pezzo di plastica bianco verso voi qual'è l'angolo tra questo filo bianco e il campo giallo? 90 gradi quindi questo è uguale a I I B che è la lunghezza del filo B del tratto B per B0 e basta perché il seno dell'angolo quale è l'angolo? l'angolo tra il filo e il campo B quindi deve essere chiaro che l'angolo che è il seno dell'angolo che è qui questo angolo non è questo angolo qua che avevo accennato prima quindi deve essere chiaro questo scrivetelo per esteso mannaggia a me l'ho scritto qui e mi vado il disegno lo appasso quindi questa forza qua questo signore qui è uguale alla corrente che sta girando su questo benedetto filo ok? la corrente di A che è D J per la sezione del filo bla 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 per la lunghezza di questo tratto B per B0 il campo magnetico per il seno di quale angolo? l'angolo tra il segmento o il lato come lo vogliamo chiamare? il segmento perché questa è la formula di un segmento la forza su un segmento tra il segmento percorso da corrente segment percorso percorso I angolo tra il segmento percorso da I è il campo campo D'accordo? e questo angolo qui quanto vale questo esercizio? P greco ma è quindi questo ci siamo? questa forza è la stessa quindi qual è il momento torcente? sicuramente il momento torcente in questa configurazione entra nella lavagna quando era girato stava uscendo ma in questa configurazione entra quindi in questo momento è meno ovviamente U di Z perché U di Z esce quindi questa configurazione quando è così Tau entra nella lavagna quando è così Tau esce scrivere il consiglio più per non confonderci forse è il caso di parlare del modulo poi il verso lo capiamo capisce con la mano destra parla del modulo va bene? il modulo del momento torcente sarà la forza per il braccio di leva è una coppia no? è una coppia torcente quindi qual è il braccio di leva? questo è il braccio di leva qua qual è il braccio di leva? qual è questa distanza? questo cos'è? questo è A no? questo è A è la lunghezza di questo segmento qui e qui dobbiamo parlare del famoso angolo quale angolo? quello rispetto alla famosa configurazione speciale stabile quindi la configurazione speciale diventa quella rispetto alla quale ci conviene misurare gli angoli quindi è analogo al pendolo no? questo è il pendolo questa è la configurazione stabile questa è una configurazione si misura l'angolo dall'angolo di dalla configurazione di equilibrio quindi questo angolo qui lo misuro dall'orientazione di equilibrio faccio in qualche colore sgargiante in blu questo è l'asse lo vedete? quella è l'orientazione di equilibrio misuro gli angoli da quell'asse lo vedete? misuro gli angoli dalla configurazione di equilibrio e quindi io voglio sapere qual è il braccio di leva per poter scrivere il momento attrocente il momento attrocente sicuramente è la forza e B cos'è? B0 il seno dell'angolo ma vale 1 adesso lo scrivo per il braccio di leva quanto è il braccio di leva? è questa distanza qua allora questo è l'angolo teta quindi quando questo angolo chiude questo angolo chiude qua avete ricordo? un altro colore cosa posso usare qua? colori non ne ho tanti diversi facciamo un arancione questo arancione qua rappresenta l'asse dell'aspira questo che io ho indicato così quindi voi attaccate sulla spira a 90 gradi questa pezza di plastica che fa da indicatore d'accordo? quindi quando l'indicatore è così quando l'indicatore è parallela alla linea blu vuol dire che questa spira è orientata nella configurazione di equilibrio quando faccio così vedete che l'angolo è questo qui no? quindi quando questo si apre questo si apre quando questo è 0 questo si è 0 quindi l'angolo è questo d'accordo? quindi è questo e quindi cosa è il braccio di leva? è il A per il questo è il cateto opposto a questo angolo quindi il seno di teta quindi scrivo A seno di teta deve essere chiaro chi è teta eh? teta è l'angolo tra l'indicatore sulla mia spira che metto così e questo vi deve ricordare qualcosa no? non è la stessa convenzione che usiamo per orientare le piastrelle quindi immagino la superficie matematica individuata dalla spira rettangolare qual è? per esempio quella tesa come un taburo questa qua si apisce con un vettore il modulo di questo vettore sarà per esempio l'area poi l'orientazione pensando questa freccia come indicatore posso dire se questa piastrella è orientata o meno nella direzione di equilibrio così e nella direzione di equilibrio così no così no d'accordo? permettetemi di scriverlo in modo in cui qui c'ho I B0 anzi facciamo così B0 I A B seno di teta questo cos'è? quello è l'area della spira il rumore di Krauna sta salendo pericolosamente la in fondo per cortesia silenzio quindi il momento torcente il modo del momento torcente lo posso scrivere così qual'era il modulo del momento torcente sul dipolo elettrico? l'ho carcelato guardate il vostro caderno rifaccio rapidamente il disegno questo era il piano sotto questo era più qua avevo, che so, la carica positiva era qua la carica negativa era qui qual'era il tau in questo caso? il modulo perchè abbiamo capito che il tau è perpendicolare alla lavagna sarà uscente o entrante a seconda che sia orientato in un modulo o nell'altro rispetto alla direzione di equilibrio e qual'era la direzione di equilibrio qua? tutti questi gesti colorati in un'unità matto mamma mia questa è la direzione di equilibrio quindi il dipolo è così e voi misurate l'angolo in che modo? così dalla posizione di equilibrio perchè questa è la posizione di equilibrio quando quello negativo è in alto e quello positivo è in basso questo è l'equilibrio stabile 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 quindi misurate l'angolo rispetto alla direzione dell'equilibrio stabile quindi misurate l'angolo così quindi se questo è il vostro teta qual'era il tau? invece di P0 c'era? E0 invece di guardate le analogie io adesso faccio un riquadro attorno a la corrente e l'area nella forma del dipolo elettrico era invece di P0 era E0 invece di questa roba qua avevo Q Q di seno di teta vedete l'analogia di queste formule? il seno di teta è su entrambi c'è il campo elettrico in uno e il campo magnetico in l'altro in quello elettrico c'è Q per B e in quello magnetico c'è E per A per B questo è la carica elettrica per la distanza tra le due che costituiscono un dipolo elettrico questa è la corrente e un'area ok? adesso io voglio elevare questo a analogia e forzarlo giù qui nella vostra testa convenzione questo è un dipolo elettrico eccolo qua questa è la carica positiva Q questa è la carica meno Q definisco un nuovo vettore silenzio silenzio il vettore lo indico con una P maiuscolo stilizzato così è una P stilizzata da non confondere con la qualità di volta da non confondere con la qualità di volta la definisco così allora questo immaginate che sia l'asse X e l'asse Y questo è il vettore che va dall'origine alla carica negativa che so lo indichiamo così con R col pedice negativo questo è il vettore posizione che va dall'origine alla carica positiva d'accordo? questo signore qui si chiama il momento di dipolo elettrico momento di dipolo elettrico elettrico ed è definito così Q piccolo la carica questa la carica Q questa la carica meno Q definito così Q per R più meno R meno questa è la definizione del momento di dipolo elettrico è un vettore che modulo ha? e che direzione ha? il modulo di P è uguale a Q per il modulo di questo intanto capiamo chi è questo vettore per cortesia lo individuiamo magari a disegno in arancione ecco qua la ragione per terra lo stavo per schiacciare chi è questo? chi è questo vettore? è la posizione di R più rispetto a R meno quindi è questa freccia qua questa qua è R più meno R meno ok? perché io vado da qua a qua o diretto o passando per l'origine meno R meno più R più d'accordo? qual è il modulo di questo vettore? è la distanza tra le cariche quello che io avevo chiamato D e quello che io avevo chiamato D e qual è quindi la direzione di P? la direzione di P adesso P io la disegno quale colore? facciamo in blu io sto per disegnare P ovviamente questa freccia ha già arancione e questa roba qua questa è la freccia arancione e la freccia arancione ha che dimensioni? è una lunghezza è un vettore spostamento che va dal negativo al positivo P non ha le dimensioni dello spostamento è una carica per lo spostamento quindi la freccia blu che sto per disegnare a rappresentare questo signore qui è un vettore diverso quindi io lo devo disegnare liberamente sulla tavania con una leggenda tipo tot centimetri equivalgono a tot coulomb metri e se questo rappresenta il vettore spostamento la freccia blu la devo tirare liberamente la tiro che so così è in questa direzione va dal negativo che direzione ha? va dal negativo al positivo che modulo ha? Q per D che direzione ha? la direzione del segmento che va dal negativo al positivo perché per definizione lo vedete questa è la freccia che mi da la direzione di P e questa freccia è la freccia dell'arancione va dal negativo al positivo non so come dirvelo di più ma l'importante è che va dal negativo al positivo e io vi dico qual è il momento torcente di un dipolo elettrico messo in un campo elettrico per esempio tra quelle create da due castre parallele il momento torcente è lo scrivo in rosso il momento torcente è il vettore E questo è il momento torcente questa formula vi da la direzione e vi da il modulo guardate il modulo prima qual'è il modulo di tau? il modulo di tau è il modulo di P per il modulo di E per il seno dell'angolo infatti guardate qua questo è il modulo di E questo è il modulo di P e questo il seno dell'angolo guardate questa e provate ad azzardare la formula il momento torcente su qua ho definito cos'è un momento di dipolo elettrico adesso sto per definire un momento di dipolo magnetico siete svegli? ok cosa faccio? devo pensare a una spira ecco la spira disegnata un po' prospetticamente questa è la parte che viene verso di voi d'accordo? immaginate questa spira ha una certa dimensione immaginate la rettangolare potrebbe anche essere circolare potrebbe anche essere una spira circolare un po' prospettica questa è una spira è un pezzo di rame sagomato a forma di rettangolo o a forma di cerchio immaginate in queste spire che individuano l'area l'area che individuano per esempio è l'area della membrana tesa come quella di un tamburo appoggiata su questa curva queste individuano un'area quale area individuano? che individuano questa area qua adesso immaginate che queste spire siano percorse da corrente perchè stiamo studiando il comportamento di una spira percorsa da corrente in un campo magnetico facciamo che la corrente stia girando che so così sta girando così sta girando così sta girando così prendo la mia mano destra mi siedo sulla sinistra nascondo per un altro il pollice prendo le mie dita le libero le sciolgo e le metto come nel verso di percorrenza della corrente della spira poi alzo il pollice e vedo qual è la direzione del mio pollice come vedete il pollice è verso di qua il pollice è verso di qua quindi definisco un momento di dipolo magnetico questo si indica con una specie di M stilizzata io la scrivo così questa è una specie di M stilizzata in certi testi magari M è piccolo e quello è un P la rotazione mi piace a me sono io momento di dipolo magnetico momento di dipolo magnetico e per definizione la corrente che sta girando quindi qua ha visto la corrente che gira la corrente che sta girando moltiplicato per il vettore area di quella spira quindi questo vettore qua eccola qua il vettore area è questo ha un certo modulo qual è il modulo del vettore area? sono i metri quadri della membrana tesa come un tamburo su quella spira che verso ha? ve la da la mano destra quindi il momento di dipolo magnetico è per definizione la corrente per l'area vettore questa è la definizione di M questa è la definizione di P e quindi vedete che nel contesto di una spira percorsa da corrente in presenza di un campo magnetico il momento torcente su una spira percorsa in un campo magnetico si scriverà come? qualcuno vuole azzardare? guardate la formula sotto sarà M vettore B invece di E mettete B e invece di P mettete M e il modulo di questo è proprio questo qua perchè I per A per B questo è l'area I per A è M quindi questa roba qua è M B per M è seno di T ok? quindi vedete come ci sono delle analogie così forti che se uno impara una formula fa scrivere subito l'altra certi che sono diversi perchè uno è un dipolo elettrico un momento dipolo elettrico e un altro momento dipolo magnetico i campi vettoriali sono diversi uno è un campo elettrico uno è un campo magnetico sono diverse perchè per il campo elettrico valgono le leggi di Gauss per il campo elettrico per l'altro c'è la legge di Gauss per il campo magnetico e la legge di Ampere sono campi diversi ma le formule dei momenti torcenti sui rispettivi momenti di dipolo sono uguali formalmente fate le debiti e le sostituzioni quindi il comportamento è molto simile notate che la freccia di A va nel verso del vostro pollice la freccia B la freccia blu P la freccia P va dal negativo al positivo queste cose dovete ricordare il momento dipolo elettrico va dal negativo al positivo il momento dipolo magnetico va come il vostro pollice della mano destra se mettete un dipolo di qualunque tipo elettrico o magnetico nei rispettivi campi pertinenti quello elettrico va in un campo elettrico e quello magnetico va in un campo elettrico tutte e due si comporteranno come degli oscillatori però solo se l'angolo iniziale è piccolo seno di θ è circa θ quegli oscillatori sono quasi degli oscillatori armonici ok? un dipolo elettrico oscillerà un dipolo magnetico oscillerà se l'angolo di partenza è piccolo questa oscillazione sarà quasi un oscillatore armonico e sarà quindi legittimo per me chiedere a voi a un orale qual è il periodo d'oscillazione ma adesso qual è l'asse di rotazione di questa spira? è quest'asse qua quindi dovete saper calcolare il momento di inerzia di una spira rispetto a quest'asse quindi se l'asse è vuota queste sono le domande da fare ai meccanici se l'aspira è vuota questo è l'asse di rotazione allora avete un tratto A e un tratto B quindi questa spira avrà una certa massa no? avrà una certa massa che dipenderà dalla densità del filo se avete un filo di alluminio o una spira di alluminio A per B o un filo di oro A per B è chiaro che le masse sono diverse no? quindi dovete saper calcolare il momento di inerzia di questa cosa rispetto a quale asse è l'asse di rotazione che è questa poi io perché sono magari simpatico potrei dire che il filo magari è di massa trascurabile però il corpo quello che il meccanico è costretto a mettere qui per evitare che il filo si deformi appena la corrente circola quella cosa che lo imbraga magari è una piastra di acciaio o di alluminio allora qual è il momento di inerzia di una piastra dove sulla periferia della piastra c'è una corrente che circola di massa trascurabile il filo però la piastra ha una massa quindi dovete sapere il momento di inerzia della piastra di un disco e questo lo sapete fare eccetera eccetera no? quale sarebbe il momento di inerzia di un disco ma attenzione l'asse di rotazione è questa se la spira fosse circolare com'è il momento di inerzia di questa? voi conoscete il momento di inerzia di questa no? che passa perpendicolare all'asse ma c'è il teorema degli assi perpendicolari sono adesso un po' creativo no? ero lo squillo giusto? terrine queste cose c'è un sacco queste due domande c'è un sacco di fisica sono tra le mie domande preferite